Benvenuti amici, un saluto da Robert Matri, 1909 del P, siamo qui con un nuovo video, un altro giocatore, possiamo definirlo così, della nazionale Under-19, Under-20, Under-21, quello che volete voi di questa miniserie, anche se non l'ho proprio realizzata come fosse una serie, però diciamo che l'idea c'era. Quindi dopo Pietro Pellegri, anche Ken, inizio stagione, e Cutrone, oggi arriva un altro giovane talento, classe 2000 anch'esso, parliamo di Fabrizio Caligara, giocatore che è andato in ritiro con Massimiliano Allegri e che è un classe 2000 anche lui. Allora, nome Fabrizio, cognome Caligara, Italia Juventus, centrocampista, centrocampista centrale, quindi centrocampista difensivo, numero di maglia, io ho messo la 36, non ha un numero ufficiale con la Juventus, quindi poi vedrete poi voi anche perché la 33 è di Federico Bernardeschi. Piede sinistro, è nato il 12 aprile del 2000, purtroppo non abbiamo a disposizione l'anno 2000 e quindi mettiamo 1998. Passiamo all'aspetto, altezza 180 cm per 69 kg medio, carnagione, mettiamo la seconda, cappelli, stelle lunghezze, andiamo corti e andiamo a prendere a spazzola ordinati. Colore dei capelli, nero, stile barba, mettiamo senza barba, colore barba, nero. Sopracciglia, posizione sopracciglia, alte e indentro, forma sopracciglia, allargate giù e spessa. Occhi, taglio degli occhi vicini, giù e grandi. Dettaglio occhi 1, distesa e normale. Dettaglio occhi 2, normale. Colore occhi, marrone. Orecchie, posizione orecchio in fuori. Tipo di orecchio, lobo, sì. Naso, posizione naso stretto e basso, stretta. Tipo di naso, normale. Profilo naso, curvo dentro e in fuori piccola. Narici alte e strette. Dario narice, normale. Guance, posizione zigomi, mettiamo bassi e piatti. Tipo di guance, tipo di guance piatte. Bocca, posizione bocca stretta in fuori. Labbra, sottile e sottile. Stile labbra, destra. Perché verso destra? Scusate, non mi torna questo. Ok. Scusate, non so perché non mi tornava, quindi mettiamo su. Non so perché era verso destra, però va benissimo. Mascella invece mettiamo bassa e definita. Mento, lungo a punta e normale. Questo ragazzi per quanto riguarda l'aspetto di Fabrizio Caligara. Beh, qui come volete voi. Passiamo alle categorie. Attacco, cross 40, finalizzazione 50, testa 70, passaggio corto 65, tira al volo 40, piede debole 2. Difesa, marcatura 60, contrasto in piedi 60, scivolata 55. Abilità, dribbling 60, effetto 40, punizione 40, passaggio lungo 55, controllo palla 65. Potenza, potenza tiro 70, elevazione 65, resistenza 70, forza 70, tiro dalla distanza 55. Movimento, accelerazione 50, scatto 65, agilità 50, reattività 60, equilibrio 70. Mentalità, aggressività 75, abilità tattica 60, che può l'intercettazione, posizione in attacco 60, visione 55, rigore 50. Infine, portiere, ragazzi, Marco di Fabrizio Caligari, 30, 10, 10, 10, 10. Quindi, ragazzi, il video termina qua. Io spero che, insomma, il contenuto vi sia piaciuto, questi contenuti vi saranno piaciuti. Come ho ripetuto, come ho già detto nel video di Pietro Pellegri, la prossima settimana non posterò dei video, perché sarò in Trentino, sarò in vacanza, quindi vi ho postato questi due giocatori in una giornata, quindi probabilmente anche record personale, in modo tale che, insomma, possiate sbizzarrirvi con questi due qua, e poi, dal 12 in poi, tornerò con altri video. Quindi voi, in questo periodo qua, comunque, commentate, condividete, iscrivetevi, lasciate un bel like, scrivetevi altri, magari anche una lista, potete fare anche una lista, di giocatori Under-19, Under-18, che non sono presenti su FIFA, in quanto minorenni, che però vorreste vedere sul vostro FIFA, e io provvederò a creare. Quindi, ragazzi, il video termina qui. Un saluto da Nordmatri, 1900, da Tavvedelpi, con me, Fabrizio Caligara. Ciao, ragazzi.